Oggi volevo dare un aiuto su YouTube. Sono arrivati tanti aggiornamenti e la fase del 4 maggio farà ripartire le aziende produttive le attività commerciali ma solo quelle di ingrosso l'11 maggio se tutto va bene inizieranno a ripartire i negozi però inizialmente con le asporto e tutto questo affiancano quelle a domicilio che sono tutti rappresenti magari nei ferramenti nei negozi dove vendono materiale che materiale come veleno per animali si dovranno mettere la mascherina ai titolari. Poi una cosa che non ho ancora detto per quanto riguarda i dipendenti di attività produttive commerciali all'ingrosso ci sarà lo smart working per gli over 65 per le persone più fragili. Sempre l'11 maggio si potrà dare il via anche a bar e ristoranti e anche ai parrucchieri ricordando che i parrucchieri potranno avere un solo cliente al giorno per ogni persona che lavora dentro il negozio di parrucchieri chied USA la